Grande attesa per l'arrivo sul palco della Smile Arena qui ad Avellino di Geolier, il rapper napoletano pronto a far vibrare il pubblico con il suo stile unico e coinvolgente. Da questa mattina una marea di giovani, anche giovanissimi, accompagnati da genitori, da zii, da parenti provenienti dalla Campania ma anche da altre regioni del nostro bel paese hanno preso posto nel piazzale della Smile Arena pronti per accogliere il proprio beniamino, a vivere una serata davvero indimenticabile, ricca di emozioni, musica coinvolgente. A poche ore dal concerto procede tutto per il meglio, in piena tranquillità, della sicurezza, all'organizzazione, tutto pronto dunque per accogliere Geolier e i suoi fans, vibrare il pubblico e questo palco allestito alla Smile Arena. Ma andiamo a ascoltare proprio alcuni dei fans di Geolier. Da dove vieni? Eh... Da? Aversa. Aversa. Aversa? Aversa. E sei venuta con mamma e con papà? No, pure le mie sorelle. Ah, pure le tue sorelle, quindi tutta la famiglia. E per vedere Geolier ti piace? E quale ti piace la canzone più bella? Qual è? Tutte. Tutte? Come mamma e ho bevito, come ti sa, sa, la c'è, 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 la c'è. Bravo! Figli e nipoti, tre, davanti e io, murito di tappi per le orecchie. E' organizzato molto bene, è organizzato molto bene, sia le forze dell'ordine, sia i parcheggi, tutto molto bene. Da Sapri ad Avellino per Geolier, quante ore di viaggio, a che ora siete partiti? Siamo partiti verso le 13, due ore di viaggio. Ha accompagnato? Sì, mia figlia, mia nipote, l'altra mia nipote, il fratello. Ah, è un altro gruppo familiare, bello. Tutti appassionati di Geolier, mi fate capire perché? Per me è immenso proprio. Un bel gruppo familiare, tante generazioni insieme per Geolier, da dove venite innanzitutto? Da Sant'Antimo. Perché venire ad Avellino ad ascoltare il concerto di Geolier? Qual è la passione? Mio figlio ha la passione di Geolier. Sono le 4 e 20 che siamo partiti e siamo qua ad aspettare. Come sta andando? Per adesso bene, spero che continui così, perché è un po' difficile mantenere tutto il gruppetto, perché un giraggio di Geolier sarà proprio tremendo, secondo me. Io vi ho capito di Geolier, tanto sai che a nischiusi sono morti null, solo in Dica di Sbaglio, ancora tutto il gruppetto è meno. Ma perché piangi, tanto sai che a nischiusi sono morti null, solo in Dica di Sbaglio, ancora tutto il gruppetto è meno. Grazie a tutti.